Musica Questo disegno nasce a seguito di un'azione di innovazione sociale che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Free Doors qui sul quartiere Libertà. Un progetto finanziato dal comune di Bari con i fondi Urbis e rappresenta le parole chiave, i sentimenti che sono usciti da tutti gli incontri fatti con le persone del quartiere, in prevalenza con i migrati che vivono all'interno del quartiere. Quindi l'abbraccio simula l'accoglienza che queste persone hanno dichiarato di aver percepito e l'altra parte del murales che stanno adesso realizzando rappresenta invece la difficoltà del viaggio, della traversata. Le onde del mare sono l'humus che accomuna tutte le persone che in qualche maniera poi dopo hanno vissuto questo tipo di esperienza. Grazie.